Bene, siamo ritornati in diretta in questo giovedì così frizzante, pieno di fermento culturale e su questa scia continua la nostra chiacchierata con i vari interpreti della cultura. In maniera particolare oggi ci siamo focalizzati su quanto sta succedendo sul nostro territorio e da Vieste ci spostiamo a Manfredonia, la ridente cittadina che si affaccia sul Golfo Omonimo dove da ormai 12 anni c'è la rassegna mille di queste notti a cura della bottega degli apocrifi. Qui è indegnamente rappresentata dalla super Stefania Marrone, inarrestabile. Buongiorno, bentrovata Stefania. Buongiorno, buongiorno Toni e grazie sempre dell'invito, è sempre un grandissimo piacere per noi. Grazie a te per la passione e l'impegno che muove te e tutti i tuoi collaboratori perché mi saprai dire, no? Il teatro non è sempre un prodotto culturale sempre così fruibile dalle masse, diciamo così, no? Bisogna educare al teatro, dobbiamo educarci al teatro e io credo che in questi anni avete fatto e state facendo un lavoro meraviglioso, magari ecco mi confermerai tu stessa se c'è stato un crescendo proprio nella domanda di teatro. Il crescendo lo abbiamo sicuramente visto con la stagione passata, futura, dove c'è stato un incremento grandissimo di pubblico, un incremento grandissimo di abbonati che hanno frequentato la stagione. Quindi da un punto di vista strettamente legato agli spettacoli sicuramente sì, che questo sia dettato esclusivamente dagli spettacoli invece no, nel senso che tutta questa comunità teatrale che si allarga è il risultato di numerosi processi messi in campo con la comunità che vedono poi nello spettacolo un momento di incontro tra chi sta sul palco e chi sta in platea. Avviene però da una serie di attività che definire collaterali sarebbe riduttivo, avviene da una serie di processi di attivazione artistica della comunità che fortunatamente ha voglia di crescere insieme a noi e che quindi ogni anno viene provocata e ci provoca a inventare qualcosa di nuovo. Ne siamo convinti anche noi, sicuramente è valore aggiunto quello di cui ci parli. Ecco queste attività in che cosa consistono se dovessi citarne qualcuna? Parlo sicuramente degli incontri con gli artisti del progetto Artisti di Stagione che ha accompagnato l'intera stagione di prosa con critici, studiosi, giornalisti che sono arrivati da tutta l'Italia per mediare gli incontri. Penso alle nostre produzioni di comunità, al lavoro del nostro regista e direttore artistico Cosmo Severo con gli adolescenti, con le masse di adolescenti. Se devo parlarti invece di Mille di queste notti credo che sia un progetto esclusivamente mirato, abbiamo scelto di mirare esclusivamente a un tempo estivo come tempo lento per ricostruire i fili non solo e non tanto del teatro con i cittadini, ma i fili più sottili, consolidare i fili più sottili e le relazioni tra i cittadini stessi attraverso il teatro. Adesso sono reduce da una delle iniziative, una delle proposte che abbiamo fatto è il workshop poetico per camminatori insonni, che vuol dire svegliarsi per 5 mattine alle 6 e andare a camminare ogni mattina in una zona diversa della città, per circa un'ora e un quarto, poi fermarsi all'ombra, al riparo o dell'ombra naturale di alcune zone. Ieri siamo stati al Castello, oggi siamo stati ospiti della Chiesa Sacra Famiglia, domani saremo ospiti della Scuola Madre Teresa di Calcutta, quindi di altri enti in qualche modo formativi che ci aprono all'alba le loro porte per permetterci di fare il punto sulla nostra camminata e di restituire tutto quello che abbiamo visto in forma di domanda poetica. Abbiamo immaginato insieme al Comune, perché Mille di queste notti è un progetto del Paternariato Speciale Pubblico Privato che regola il rapporto di Bottega degli Apocrifi con il Comune di Manfredonia e che poi grazie a questi due partner è sostenuto dall'impresa sociale con i bambini, dal Ministero, dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese e abbiamo voluto, scelto, che non fossero tanto degli eventi o dei grandi nomi semplicemente a fare delle comparse, delle comparsate a Manfredonia. Abbiamo scelto che ci fosse invece un insieme strettamente connesso di riti, di riti collettivi. Allora il rito collettivo delle camminate, il rito collettivo dell'orchestra dei felici pochi insieme a un laboratorio di musica riciclata per bambini, il rito collettivo del concerto all'alba, il rito collettivo di riappropriazione e riqualificazione di uno spazio meraviglioso che c'è a Manfredonia, che è la Pinetta di Siponto, un effettivo polmone verde della città, che la comunità vive relativamente poco, o meglio, di cui non tutta la comunità riesce a godere. Quindi si tratta di processi di riappropriazione della città, sia dei cittadini e prevalentemente dei cittadini, e insieme a loro, come naturalmente ci sta succedendo in queste passeggiate mattutine, sia dei turisti che si trovano qui e quindi vengono ad esplorare insieme a noi gli angoli di Manfredoni. Grazie, grazie Stefania. La regia opportunamente ci faceva fare anche un salto sul sito ufficiale di Bottega degli Apocrifi, www.bottegadegliapocrifi.it, dove i nostri telespettatori potranno approfondire il lavoro che fate, non solo il programma di questa dodicesima edizione di Mille di queste notti. Un respiro di comunità, come ci dicevi tu, che inevitabilmente, ecco, dalle tue parole, arriva come una certezza, non come una promessa, che è un respiro di comunità che diventa davvero preludio alla felicità, come abbiamo letto sul vostro cartellone, sulla vostra grafica. Siamo immaginati due tappe di questa rassegna, il preludio alla felicità con la possibilità di cominciare ad aspettarla tutti assieme, che poi aspettarla tutti assieme vuol dire cominciare a costruirla tutti assieme, e poi parole per la città nuova, molto centrato sulle parole. La seconda sezione della rassegna è proprio alla ricerca di parole nuove che possano, o meglio, di parole che tornano ad avere un significato originario per restituirci una visione nuova, perché poi per costruire insieme una visione collettiva di città abbiamo bisogno di parole condivise che possano raccontarla, che possano contribuire alla narrazione. Tutto questo attraverso il nostro pallino resta sempre quello della qualità artistica, perché ce lo siamo detto tante volte, il teatro nel momento in cui ha qualità, nel momento in cui è teatro quindi, e persegue la sua qualità artistica, per forza di cose allora diventa sociale, civile, politico, poetico, e su questa qualità continuiamo a scommettere, sempre meno soli, nel senso che con una comunità teatrale che si avvicina al teatro sempre più in larga. Stefania, complimenti sinceri a te, a tutto il team di Bottega degli Apocrifi, perché come già detto arriva forte la passione, l'entusiasmo che vi anima, e il servizio bellissimo che fate alla vostra comunità. Se non fossi legato a questo impegno quotidiano, mi trasferirei a Manfredonia per non perdere. Se non avessimo fissato la maggior parte degli appuntamenti alle 6 di mattina, lo so. Ecco, non me ne perderei neanche uno se non avessi questo piacevole impegno, che comunque ci ha dato l'opportunità non solo di incontrarci, ma di parlare al nostro grande pubblico che ci segue da Nord al Sud Italia, ed è molto attento a questo tipo di iniziative, per cui davvero grazie per averci raccontato la dodicesima edizione di Mille di Queste Notti e del prezioso lavoro che fate come Bottega degli Apocrifi. Continuate così e davvero buon lavoro. E appena potrai vieni a trovarci. Grazie, grazie Tony e grazie a tutti. Bene, grazie ancora Stefania a tutta la Bottega degli Apocrifi che vi aspetta a Manfredonia dal 20 agosto al 7 settembre in questo ricco calendario di eventi ed iniziative